Cari spettatori, vi invitiamo calorosamente a iscriversi al nostro canale e ad attivare le notifiche. Questo vi garantirà di rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie che stiamo per condividere con voi. La storia che oggi riguarda un evento che ha colpito il cuore del Regno Unito e che sveleremo nei dettagli, rivelando la notizia più importante. La nostra storia inizia con la principessa Kate, che si trova al suo dodicesimo giorno di ricovero presso la London Clinic. La sua situazione ha destato grande preoccupazione tra i cittadini, poiché finora il motivo del suo intervento addominale è rimasto un mistero. Fortunatamente è stata esclusa la possibilità di una neoplasia. Nonostante siano state avanzate varie ipotesi, finora non c'è stata nessuna conferma ufficiale da parte del Palazzo Reale. Nel frattempo, la stampa ha rilasciato un comunicato riguardante il principe William. I tabloid inglesi lo hanno fotografato mentre si recava in clinica, confermando la sua presenza nella struttura. Inoltre, è stato rivelato che è stato allestito un letto accanto a quello della moglie, in modo che il principe possa restare vicino a lei durante questo difficile periodo. William ha dimostrato di essere un marito affettuoso e sempre presente. Ha annullato numerosi impegni istituzionali, nonostante un'agenda molto fitta, per poter essere accanto a Kate, sostenendola in questo momento così delicato. La principessa, che ha già affrontato un intervento all'addome, si trova davanti a una lunga convalescenza. Il principe William, oltre a dimostrare il suo amore e sostegno alla moglie, sta anche prendendosi cura personalmente, insieme alla loro tata di fiducia, dei loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Il quotidiano Daily Mail ha descritto William come un padre impeccabile, evidenziando il suo impegno nel portare i bambini a scuola alla Lambro School nel Berkshire. In conclusione vi chiediamo, cosa ne pensate di questa incredibile notizia? La vostra opinione è molto importante per noi. Vi invitiamo a scrivere un commento qui sotto per condividere i vostri pensieri e le vostre reazioni. Grazie per aver seguito questo aggiornamento e ricordatevi di rimanere connessi per altre notizie. A presto!